È in corso presso la galleria d'arte Forma Pop Mutazioni Contemporanee di Via delle Sirene la mostra di Lydia Bacchis intitolata Dark Bedtime Stories. L'artista di fama nazionale racconta il mondo femminile attraverso l'illustrazione delle favole. In esposizione ci sono sette opere che rimarranno in galleria fino al 21 aprile. Perché l'idea di questo spazio? Questo spazio è nato da una strana voglia di realizzare un esperimento qui a Ostia. Abbiamo aperto questo spazio il 3 di dicembre per realizzare questo nostro piccolo esperimento. L'idea e l'intenzione è di coinvolgere la gente che c'è qui a Ostia per dare la possibilità di fruire di arte. Arte che non è solo del territorio, è legata quindi alla produzione locale ma è arte, espressione di artisti che lavorano professionalmente a livello italiano e anche internazionale. Oltre al semplice spazio espositivo avete creato però un angolo dedicato alla cultura in senso più ampio. Cultura sì, un senso molto più ampio perché abbiamo anche la possibilità di andare a scovare nelle nostre, io le chiamo le chicche che sono presenti in questa galleria, dei libri, dei cataloghi d'arte anche vintage particolari. Abbiamo addirittura dei fumetti, fumetti originali americani, sigillati, che ne so, la prima edizione di Hulk, quindi per chi è curioso venga a trovarci perché troveremo sempre qualche cosa di nuovo da proporre al pubblico locale. Faremo, come stiamo già facendo, abbiamo già iniziato, dei corsi di pittura che racconteranno non solo la pittura dei grandi maestri ma racconteranno anche la vita. Ci saranno gruppi di lettura gratuiti che coinvolgeranno comunque la gente che vorrà essere coinvolta. Quindi vi aspettiamo. La galleria si trova vicinissima tra l'altro sia alla Biblioteca Elsa Morante che al Teatro del Lido a costituire un ideale itinerario culturale. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabin.